Torniamo ad occuparci della falda inquinata scoperta in via vecchia Barletta ad Andrea grazie alla denuncia effettuata dalla famiglia Ferri e della nostra emittente. Questa volta a prendere carta e penna e a scrivere ad Arpa Puglia, ASLBT, Regione Puglia, Provincia e Comune di Andrea, ci hanno pensato sia il circolo andriese di Legambiente che l'associazione Onda d'Urto. Una lettera con richieste specifiche ed una premessa ben chiara. In quel pozzo è stata rilevata la presenza di cloruro di vinile e tetracloerileitene. Oltre ad una elevata carica batterica, sostanze queste altamente tossiche che agiscono sul sistema nervoso centrale, la possibile cancerogeneità di tali sostanze è stata accertata anche dallo IARC. A partire da questa semplice premessa, viste le analisi sia private della famiglia Ferri che pubbliche, cioè quelle del Dipartimento di Prevenzione dell'ASLBT, Legambiente ed Onda d'Urto si chiedono come mai a tutt'oggi non risultano adottati i provvedimenti finalizzati alla ricostruzione analitica del modello idrogeologico della falda. Al fine di indagare efficacemente sull'origine della contaminazione delle acque sotterranee. Le due associazioni, attraverso i loro presidenti, la Rosa e Tragno, chiedono dunque agli enti preposti di estendere la ricerca delle sostanze contaminanti anche agli altri pozzi ricadenti nel territorio circostante, nonché di predisporre le misure e i provvedimenti necessarie ad accertare e delimitare geograficamente il reale territorio interessato dalla contaminazione della falda sotterranea. Infine, un'ultima richiesta ancora più chiara, è necessario investigare scientificamente al fine di comprendere quali potrebbero essere le possibili fonti della contaminazione e qualora la stessa fosse confermata, di predisporre gli opportuni studi che valutino il rischio sanitario ed ambientale sulle popolazioni esposte. Le due sostanze tossiche, lo ricordiamo, sono specificatamente impiegate in ristretti cicli di lavorazione e potrebbero, come ricordano invece le gambiente d'onda d'urto, riguardare talune a ristrette aziende ubicate nelle vicinanze. Nella missiva, infine, le due associazioni ricordano anche come proprio nelle immediate vicinanze del pozzo chiuso dalla famiglia Ferri vi sia il pozzo numero 4 della regione Puglia, le cui acque vengono utilizzate per uso irriguo, alimentando i campi di circa 300 produttori agricoli. L'ARIF, l'Agenzia regionale per le attività irrigue, precisò qualche mese fa che ci sono cariche batteriche anche nell'acqua che viene dal pozzo artesiano della regione Puglia, ma non sono tossiche e possono essere utilizzate per l'irrigazione. Non c'è dato sapere, concludono Trannio e Larosa, se però l'ente della regione Puglia si sia chiesto quale possa essere l'origine della carica batterica e se effettui un costante monitoraggio.